Si celebrerà il prossimo 20 febbraio il processo in Cassazione a padre Grattiena Labil, sacerdote congolese condannato a 25 anni per l'omicidio volontario e la distruzione del cadavere di Guerrina Piscaia. La casalinga cinquantenne scomparsa da Caraffello il primo maggio 2014 è mai ritrovata. A presentare ricorso contro la sentenza pronunciata lo scorso 14 dicembre della Corte d'Assise d'Appello di Firenze, i legali del religioso. In primo grado la Corte d'Assise di Arezzo aveva inflitto a padre Grattiena una condanna a 27 anni, scesa poi a 25 in secondo grado. Nelle 70 pagine delle motivazioni della sentenza d'Appello i giudici fiorentini hanno ricostruito le vicende che portarono all'omicidio della casalinga, accogliendo sostanzialmente la tesi dell'accusa della Corte d'Assise di Arezzo e aggiungendo inoltre che padre Graziano avrebbe ucciso Guerrina Piscaia strangolandola a mani nude. Il movente che in primo grado non era stato accertato, secondo i giudici d'Appello invece sarebbe stata la paura che Guerrina rivelasse fatti scabrosi a superiori religiosi del sacerdote e ai carabinieri. Il frate che si è sempre dichiarato innocente attualmente sta scontando la condanna nel convento romano dell'ordine dei Premo Stratensi dove ancora celebra messa. La Cassazione adesso potrà confermare il verdetto respingendo così il ricorso presentato dagli avvocati del religioso oppure rinviare di nuovo in Appello o di infine cassare del tutto il verdetto.